Inizia turbata dai colpi esplosi nella notte nella movida del comune capoluogo l'attivazione della zona bianca nell'intera provincia di Salerno dove chiede a tutti di stare attenti e dare una mano nel controllo il prefetto di Salerno Francesco Russo che ha ricordato quanto sia fondamentale la buona collaborazione di tutte le componenti della società per rispettare le regole e garantire massima possibilità di vita e utilizzo di tutti i servizi. Complice anche l'andamento della campagna vaccinale e la diminuzione del numero di pazienti covid in terapia intensiva, la campagna da oggi è in zona bianca che significa l'eliminazione del coprifuoco e dei limiti alla presenza ai tavoli nei ristoranti all'aperto mentre al chiuso resta di sei persone se non si tratta di conviventi. Il paese dunque si avvia verso il ritorno alla normalità con possibilità di spostamenti senza limiti di orario, resta invece il divieto di assembramento e l'obbligo di mascherina sia all'aperto che al chiuso. Il prefetto a margine della cerimonia nella quale oggi presso il salone azzurro della prefettura di Salerno sono state conferite le onorificenze di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana si è soffermato coi giornalisti proprio sull'attivazione della zona bianca specificando che non è necessario riorganizzare i servizi perché la situazione è costantemente tenuta sotto controllo. È particolarmente simbolico oggi in cui torniamo in zona bianca praticamente questo significa diciamo come dire un segnale ulteriore come lei diceva di ritorno alla vita normale. Purtroppo la vita normale ci sta dando anche dei segnali non piacevoli di qualche situazione soprattutto qui a Salerno si è verificata l'altra notte rispetto alla quale noi abbiamo la massima attenzione si è intervenuti immediatamente si stanno facendo evidentemente delle verifiche e soprattutto da parte delle forze di polizia noi abbiamo pianificato in sede di comitata controlli sempre molto attenti. Già da un po' di tempo lo stavamo dicendo l'ampliamento sempre inevitabile e diciamo positivo sotto il profilo del ritorno ad una vita e ad una economia normale praticamente determina anche purtroppo il ritornare in vita di tante situazioni negative. Ripeto il richiamo è sempre al fatto di avere massimo rispetto degli altri e mi rivolgo un po' a tutti mi rivolgo in particolare ai giovani non perdiamo queste occasioni splendide di ritorno alla vita riviviamole come momento di riespansione della nostra libertà però facciamolo in sicurezza e cerchiamo soprattutto di evitare delle situazioni di diciamo che sfiorano il codice penale insomma ecco che arrivano anche al codice penale quindi comportiamoci in maniera corretta. In che modo può anticiparci come verranno riorganizzati? Ci saranno comunque i controlli durante la zona bianca? Noi non abbiamo bisogno di riorganizzare i servizi perché noi abbiamo già dei servizi ben standardizzati voi avete visto insomma ancora ci sono delle diciamo delle sanzioni c'è massima attenzione c'è stato un richiamo preciso anche alla collaborazione da parte degli esercenti gli esercenti sono io oggi sarò alla confesercenti appunto per la conferenza annuale praticamente e quindi io ribadirò questo concetto l'aiuto da parte degli esercenti insomma è fondamentale perché loro sono uno strumento indispensabile per consentire la normalità delle attività la città si arricchisce con i negozi aperti con i bar aperti per discorrendo però una gestione attenta anche diciamo anche rispetto ai giovani questo aiuta molto aiuta molto e chiaramente soprattutto impedisce che si possano verificare delle situazioni gravi come si sono verificate e possono consentirci di continuare cioè di riespandere questa libertà che c'è ma in maniera diciamo corretta in maniera tale che poi non diciamo non determini ritorni all'indietro grazie